bello a tutti ragazzi sono gabino e oggi siamo in questo gioco molto pieno di colori un gioco bello un gioco grosso pieno di zombie che si chiama dead rising 3 certo esiste anche il 4 però sinceramente io preferisco cioè preferisco giocare i giochi che c'ho cioè che io giochi nuovi se mi do se mi devo prendere proprio poco ho finito c'è anche questo qualche volta andrò un po di un po gli altri primi livelli perché c'è poi ci sono vicino a quelli lanciano la bomba e crepiamo tutti quindi da sto punto è capitato una volta non ho perso i dati però se guardate sto così per evitere di sudare posso dire questo usciamo c'è la rigenerazione automatica fatevi sotto vi faccio il culo a tutti vi faccio il culo a tutti ma mi tocca certo 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 ci sono gli zombie con delle armi però io proprio quanto vedo questi che campano ancora a di me sono a morte tutte ci stava uno di zombie io neanche lo vedo a prendo perché sono di cazzo guarda stava lo zombie io c'è io mi vado ad uccidere c'è abituato c'è abituato c'è in tutti gli altri giochi che usa y e per y preferi troppo forte guarda cos'è sto schifo togli c'è abituato c'è abituato c'è abituato crepa 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 deficiente c'è se guarda chiamarsi deficiente tu ti butti e crepi c'è proprio ma quelli che si buttano c'è proprio io odio gli zombie che si buttano come si stanno a giocare a rugby c'è proprio c'è un chissà c'è un chissà c'è un mo' mo' mi devi dire sono zombie se uno zombie può decisamente correre Hulk Hulk che c'è così è è prete bastante a terra di stagliare ti stacco la testa ma buon salvo ma buon salvo ma buongiorno ma buon giornissimo cosa volete voi dalla mia vita? si guardate questo è un bel gioco mi stanno facendo leggermente il culo quel cazzo si corre che non mi ricordo neanche più cioè sto gioco è leggermente vecchio ma dai rigenerati dai se volete posso lanciarvi questo se volete vattene vattene scavois vattene scavois vattene 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 scavois lancio buca io amo queste mazze che gli fanno fare i voli grossi buca buca un colpo solo palla dove ti aspetta beh perché sto fesso mai si rigenera cazzo si corre sto gioco di merda come si corre come si corre in sto gioco di merda che da che sapete da quanto tempo non lo uso proprio 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 da questo gioco c'è anche il corso vocale quindi se parlo questo può capire interrompere guarda quindi sto gioco da un bordolo di tempo che non ci gioco sapete come dicono proprio i film che dicono vattene prendi la valice e vattene uguale quindi senti uso questa la rompo si guarda beri whisky durante una durante un'invasione zombie proprio a me non mi pare proprio il caso comunque sono forte una Lamborghini si io mi scordo che qua si che qua si va con bene ma va eeeh sono pure poliziotti è meno male che i zombie non male che non sono capaci di usare le armi però tirano a cazzo a me che credo batarda sei un bastarda mamma non mi pare proprio il caso che ti amicini sono pericoloso sono pericoloso ma tu ci vuoi? vanno cos'è cantiamo la baria lei la baria le fatte tutti si guarda sono proprio perso io la baria lei core core che mamma ha fatto gli gnocchi core che mamma ha fatto gli gnocchi eh gu magari troverò cazzo io io più zombie uccinto più punti di danno è giusto cioè poi per chi non conosce questo gioco guardate è fatto bene la grafica è fatta cioè sapete è fatta bene dai si vede che il video ci sono alcuni videogiochi che sembra completamente vita reale sono tipo gta sapete mi sto immaginando gta 6 come sarà proprio pieno di cose ecco questi esplodono quei cosi questo è morto sempre essere sicuri dobbiamo sempre essere sicuri di chi è morto e chi no questo è ancora tutto intero è decisamente morto perché alcuni zombie fanno infurbi si fanno vedere morti però non lo sono sapete qua vicino c'è pure un rifugio quindi andiamo andiamo alla ecco ancora il video guardate c'è questa che loro vanno verso la luce seguita la luce verso la luce e luce fu c'è il fatto che dico felice munizioni se luce e luce vorrei pulire il rifugio si ragazzi datemi un attimo questo video cioè durerà leggermente di più però ragazzi se vogliamo concludere il video bene non rifugio pulito dagli zombie eh ci vuole rifugio ripulito guardate questo ma questo c'aveva questo c'aveva satan esce a questo zombie c'è niente io posso poi concludere il video che è durato fin troppo ci chiedisci mi ha detto un bel mi piace commentate iscrivetevi eh ciao ragazzi ad un prossimo video ci vediamo ciao